Benvenuti, benvenuti a tutti. Allora, siamo arrivati al 17esimo capitolo dell'undicesimo canto, dove Krishna descrive il metodo del Varnashrama. Adesso avremo modo di approfondirlo molto bene, perché tra l'altro anche il prossimo capitolo, il capitolo 18, soprattutto tratterà di questo argomento e entrambi sono dei capitoli abbastanza lunghi. Sì, abbastanza lunghi. Bene, sono molto contento tra l'altro appunto che siamo arrivati a questo punto. Il Varnashrama c'era, dicono che Prabhupada, quando si stava avvicinando al momento di lasciare il corpo, aveva detto che abbiamo fatto il 50% del lavoro. che significava, aveva portato il messaggio di Sri Chaitanya in occidente, aveva, come dire, creato una cultura braminica, cioè l'adorazione della divinità, un sadhana spirituale, una pratica spirituale di un certo tipo, il canto dei santi nomi. Però diceva, quello che mancava invece è il Varnashrama, perché ha a che fare proprio con il funzionamento della società. Ora, l'abbiamo accennato la scorsa volta, il Varnashrama, cioè quando noi pensiamo all'India, pensiamo al sistema caste, che è una cosa completamente differente, cioè nel senso è una perversione di quello che in realtà era stato creato, cioè lo scopo del Varnashrama è proprio una perversione, ma siamo anche in Kali Yuga, quindi insomma tanti aspetti della nostra vita sono perversioni di qualcosa che ha invece un senso. Bisogna ritrovare quel senso. Il Varnashrama divide, cioè Varna e Ashram divide l'uomo in quattro categorie sociali e anche quattro fasi della vita. Prima di addentrarci, volevo dare un po' di così dopo possiamo concentrarci sulla lettura, insomma dare qualche punto che almeno siano degli appigli per tenere in piedi, perché adesso andiamo su delle parti abbastanza pratiche. Allora, dicevamo i quattro ordini sociali che sono in ordine Bramana, la classe più, si dice, la più elevata, quella che coltiva la conoscenza spirituale, quindi diciamo può essere la classe sacerdotale, ma non è proprio la classe sacerdotale, perché di Bramana insomma va bene. Comunque il Bramana, l'Okshatra che sono, era definito il re, Arjuna era un'Okshatria, Yudhishtira era un'Okshatria, Dhritarashtra era un'Okshatria, anche Duryodhana era un'Okshatria, i personaggi del Mabharata, ma sono anche tutti gli amministratori, cioè coloro che hanno un potere, cioè che amministrano lo Stato, il territorio, insomma amministrano un luogo. Dopo ci sono i Vaisha che sono invece coloro che portano ricchezza ai commercianti, ma anche gli agricoltori e gli Shudra che sono coloro che invece mettono la propria manualità, il proprio servizio si dice proprio all'intera società e ce ne sono tanti. Questa è la prima differenziazione, poi c'è una differenziazione invece in base alla fase evolutiva all'interno della vita di una persona che sono il bramacariato che significa studiare, apprendere la conoscenza, la conoscenza di vario ordine anche, ma principalmente la conoscenza spirituale, è quella che si fa nei primi, si dice adesso i compartimenti non sono così, la parte temporale non è così fissa, però insomma si dice che sono i primi 25 anni della vita, poi ci sono gli altri 25 anni che è invece la parte di se uno ha desiderio di creare una famiglia e quindi di dare valore alla società attraverso il nucleo familiare, quindi che è il griasta, poi dopo a un certo punto quando i figli sono grandi, insomma ci si avvicina e si è lavorato e si è prodotto e si è insomma tutto sistemato, insomma in qualche modo si si avvicina a quella parte che è definita vanaprasta in cui si incomincia a lasciare un po' di... ad allentare i nostri legami con il mondo e pensare invece concentrarsi di più sulla pratica spirituale è che è sempre una linea, come dire, è una compagna costante dall'inizio alla fine della nostra vita, però insomma in quel momento c'è anche, perché da griasta, da padre o madre di famiglia, insomma comunque siamo molto coinvolti nella società, invece in quella fase si è meno coinvolti e quindi ovviamente essendo meno coinvolti si ha più tempo per, e anche la coscienza è più, così, ha le condizioni migliori per potersi concentrare su altri temi che sono quelli più esistenziali. E dopo l'ultima parte, chi ci arriva o non ci arriva, ma insomma a parte la parte temporale ma anche a livello di coscienza, è il Sannyasa che rinuncia completamente al mondo, proprio rinuncia completo, cioè non ha proprietà vaga, di qua di là vive proprio di, come dire, vive di elemosine, come un tornare indietro, cioè da bambini noi dipendiamo dagli altri, neanche il Sannyasa ma dipende direttamente da Krishna. Quindi non si preoccupa ecco di possedimenti, di cosa, cosa farò domani, dove dormirò, è ovviamente uno stato particolare, ma avremo modo di leggere bene, insomma, questa parte qua. E volevo solo fare proprio un piccolo rissunto. Dobbiamo capire però che questa divisione ha un intento spirituale, perché? Perché una società spiritualmente orientata è naturale, cioè è naturale che la società sia spiritualmente orientata, perché la spiritualità non è così un'idea, così un vezzo, oppure tengo a questa squadra di calcio rispetto a un'altra, è la realtà. Quando parliamo di spiritualità parliamo di, non di un credo, parliamo di avvicinarci, di aderire alla realtà. Quindi una società che abbia al centro anche questa, come dire, questa consapevolezza, è una società che dovrebbe essere, cioè è naturale che sia così. E lo scopo, lo scopo di questa organizzazione è quello di, aspettate che vedo voi che siete tentati, Maddalena Hare Krishna, è quello di dare protezione e rifugio a tutti e permettere anche ad ognuno di evolversi, secondo la sua, cioè all'interno di un ambiente protetto. E ce ne sono tanti, tra l'altro anche noi ricreiamo di volta in volta questo tipo di ambienti, associazionismo, gruppi di amici, noi ricreiamo dei piccoli gruppi in modo tale che noi possiamo crescere in modo un po' protetto. E va lasciando proprio questo. Cioè ci dà delle indicazioni per non perdere tempo in cose inutili. Come dire, guarda che è lì e da che cosa è sostenuto? È sostenuto, prima dicevo che il sistema delle caste è una perversione del Varnashrama perché? Perché il sistema delle caste si basa sulla nascita ed è evidente che è qualcosa di molto strano questo perché tutti abbiamo esperienza che il figlio di un bravo leader non per questo debba essere un bravo leader oppure il figlio di una persona onesta non per questo è onesto o il figlio di un grande lavoratore non per questo è lui stesso un grande lavoratore. Quindi è veramente strana questa cosa qua. Si capisce proprio a parole. Infatti è tra le cose che ci tiene più distante dalla cultura indiana. Perché appena vediamo una cosa così, una società così strutturalmente divisa è rigidamente divisa ovviamente è naturale che ci viene un po' da allontanarci da non aderire a questo anche perché pensiamo che quello sia come dire il frutto di una sola... perché sappiamo che l'India è orientato spiritualmente sia il frutto di una spiritualità e allora diciamo ma che tipo di spiritualità è questa che divide in modo così cioè che proprio non c'è nessuno ascolto la natura dell'essere umano. Invece è il... Christian lo dice brevemente proprio usa cinque versi per descrivere Varnashrama pochi versi proprio ma dice che è dato da Guna e Karma è dato dall'influenza della natura ed è dato dalla Karma nel senso di azioni quindi non è dato da Jamma dalla nascita ma è dato da quello che noi siamo quello che noi facciamo è ovvio che se io nasco in un ambiente appunto in un ambiente dove mio padre è un grande lavoratore è facile che sarò ispirato da quei valori quindi è facile che a mia volta magari sia introdotto verso quello oppure se è estremamente pratico e manuale anche io magari fin da piccolo incomincio a toccare cose mentre non lo so mio figlio è nato in questa casa che è piena di libri e lui è incominciato subito a leggere ma perché è facile insomma vede papà e mamma che leggono e anche lui ma non è detto che sia una cosa che continua sempre perché a un certo punto la nostra natura i nostri desideri che ci portiamo da vite da vite abbiamo scelta quella vita prima insomma per per dire questa è la vita perfetta per farmi fare quel tipo di esperienza per farmi evolvere è possibile che emergano altre altre tendenze e poi è possibile che le mie azioni mi portino da altre parti e ovviamente ma questo sto dicendo delle banalità perché non tutti fanno quello che ha fatto papà e mamma come lavoro cioè o con il nonno il nonno del nonno cioè il papà del nonno cioè è proprio banale e una cosa che vedremo è che in questa era noi vedremo tante indicazioni leggeremo tante indicazioni sui vari varna e vari ashram e capiremo che è praticamente impossibile applicare alla lettera tutte le indicazioni che vengono date in questo in questo testo non è una mia così un mio per giustificare dei nostri limiti ma proprio lo dicono ce lo dicono i maestri è veramente difficile applicarlo perché perché questo è stato è stato detto anche all'interno di un contesto sociale di un certo tipo adesso è un po' difficile quindi noi dovremmo capirle l'essenza di quello di quello che noi che noi leggiamo e tutti hanno come essenza quella di evolversi e cosa vuol dire questo evolversi cioè com'è questa cosa dell'evoluzione noi dovremmo capire che innanzitutto il varna shama è stato creato lo dice Krishna l'ho creato io e tutto quello che è creato dal Signore è in qualche modo legge cioè è come dire l'ho creato io ed è quello che è quindi si integra con noi cioè vana shama si integra con noi ma noi abbiamo appena letto nel capitolo precedente abbiamo appena letto Krishna ha fatto un bel discorso sul concetto di rinuncia totale quindi com'è che stanno insieme le due cose è un questo è un metodo che si integra con noi in effetti che ci aiuta molto a stabilirsi all'interno di una società ma che un po' di cioè non si integra perfettamente cioè si integra ma non si integra perfettamente cioè c'è un po' di attrito c'è un po' di attrito che è quello che appunto che può avere due effetti allora c'è l'attrito che è un po' si sto bene ma non ma non perfettamente perché adesso ne parliamo un attimo ci possono essere due cioè noi sentiamo un po' una resistenza a stare all'interno di alcuni confini anche se sono confini che ci fanno bene proprio questa è la nostra un po' abbiamo una natura un po' in questo caso un po' ribelle e se noi la viviamo da un punto di vista inferiore allora questo diventa l'escalation della classe sociale allora diventa avidità allora diventa io non sono contento di essere sudra e farò di tutto per diventare un imprenditore e poi quando sono imprenditore non sono contento ma farò di tutto per diventare uno che gestisce le cose la ricchezza cioè noi e quindi scatta la competizione cioè questo stridio crea questo così senso di chiamiamolo disagio di stare all'interno di una strada già segnata perché ci sentiamo un po' limitati e allora questa cosa ci fa un po' scalpitare questa però è seguire la nostra natura inferiore invece se seguiamo la nostra natura superiore è proprio quella di capire che è un sistema legato a qua e che noi in realtà siamo anche qualcos'altro quindi è scatta allora quella volontà che alla fine porta alla totale rinuncia ma lo porta in un modo in un modo equilibrato in un modo continuativo non in una fuga dalla realtà oppure in una anche lì purtroppo in una voglia di competere con un altro a chi è più rinunciato o qualcosa del genere quindi è come questo stridio immaginiamolo è come se fosse un fuoco che si che si che si accende quando c'è quando c'è un attrito si crea calore allora questo calore o lo viviamo in un modo un po' esasperato oppure è come se noi ci lasciassimo incendiare dentro realmente cioè prendessimo questa cosa qua e ci lasciassimo cioè diventassimo veramente una fiamma col tempo e allora si si avvererebbero le parole di ad esempio Gesù voi siete la luce del mondo e allora è una luce non può stare sotto dentro ma deve stare insieme al monte allora in quel caso lì allora come dire questo stare e non stare in questo mondo sentirci parte ma anche non parte contemporaneamente allora crea qualcosa che è una come dire una spinta verso l'evoluzione però il Varnashrama ci permette di fare di attuare questa spinta su un terreno molto saldo cioè su un terreno condiviso perché il secondo aspetto è che noi non siamo come diceva Thomas Merton non siamo un'isola noi siamo comunità noi siamo anche da qualsiasi punto noi la leggiamo anche solo dal punto evoluzionistico cioè noi siamo così organizzati perché noi siamo comunità cioè noi siamo relazione con gli altri e quindi è per questo che è giusto che Krishna abbia sì ovviamente dice il tuo obiettivo ultimo è tornare sì ma intanto sei qua e qua sei comunità non sei solo quindi non è l'obiettivo di tutti andare in una caverna come diceva anche Prabhupada ma anche mi ricordo Adana Sani diceva anche se tutti andassero nelle caverne le foreste diventerebbero città invece siamo diversi ma la maggior parte di noi vive all'interno di una comunità e quindi è buono che ci siano anche dei testi che ci insegnano anche a come vivere pacificamente o trovare il nostro posto all'interno di una comunità adesso noi arriviamo per noi è molto strana questa cosa perché noi arriviamo a una certa età che non sappiamo ancora cosa c'è 50 anni che non sappiamo ancora cosa faremo da grandi ma noi dobbiamo pensare che all'interno della società vedica era molto chiaro la comunità era molto chiara molto chiara cioè tu cioè sapevi il tuo posto all'interno del villaggio ma è come tutte le piccole comunità rurali anche tu sai perfettamente il tuo posto all'interno di una piccola comunità quando invece la comunità si allarga diventa un po' incomincia a diventare dispersiva e tu ti senti una piccola quantità cioè un piccolo elemento che non ha neanche tanto impatto sulla tua comunità quindi noi ci sentiamo sperduti ci sentiamo appoliti ci sentiamo che non abbiamo delle radici ma questo potrebbe essere visto in un modo così in modo assoluto va bene siamo tutte anime ritorniamo ma in realtà porta della sofferenza perché noi comunque noi possiamo dare frutto quando abbiamo delle buone salde radici anche in quello che ci sta attorno nelle nostre relazioni e quindi leggiamo cerchiamo di leggere questo prossimo capitolo proprio per come dire visualizzare cose buone non vedere come se fossero dei compartimenti va bene ma visualizzare cose buone dove ognuno di noi trova posto e dove ognuno di noi quel posto cioè quel posto che ha trovato è il posto migliore che potrebbe trovare ricordiamoci Krishna che diceva nella Bhagavad Gita è meglio compiere imperfettamente il proprio dovere cioè seguire la propria natura piuttosto che compiere perfettamente il dovere di un altro e non è un segno come dire scusate perché questo perfettamente è un perfettamente soggettivo non è oggettivo cioè non è un segno come dire tu che sei come dire servitore stai servitore e io che sono resto anche se lo faccio in modo imperfetto e anche tu anche se tu anche se tu avessi le capacità di farle come me ma tu rimani dove sei non è questa cosa qui ma è proprio il punto che noi siamo in una condizione dove magari sappiamo fare anche tante cose ma ci sono certe cose che ci fanno bene e certe cose che non ci fanno bene quindi e noi dovremmo lavorare dove dove noi sappiamo e questo un po' con un po' di introspezione ce la facciamo un po' anche anche con le relazioni perché è proprio la comunità che ci fa specchio sulle nostre qualità perché noi ci vediamo in un certo modo ma noi ci percepiamo in un certo modo è una percezione non è un'oggettività e poi anche quello che come dire il mondo è è costruito in un certo modo cioè ha delle delle norme delle cioè per funzionare bene anche qui anche in questa dimensione ci sono delle cose non è che dobbiamo solo andare via scappare ma ci sono dei sistemi per stare bene sempre sapendo di dove siamo esattamente che non è la nostra destinazione ultima ma c'è un modo per stare un po' meno peggio ecco diciamo così per sentirci sì però insomma stare in una buona società pensiamo a a Vrindavana insomma erano dei Vaisha erano dei Vaisha e Danda Maraja e Krishna è nato in una società di Vaisha in una famiglia Vaisha e non era sicuramente un limite per lui anzi lui si divertiva tantissimo dopo è andato dopo è nato in una famiglia di Kshatra e dopo è stato la prima parte della sua vita in una famiglia di Vaisha quindi è come sappiamo insomma come se avesse due coppie di genitori e dopo è diventato re e anche lì ha fatto le sue cose insomma ha fatto le sue cose insomma noi invece ci sentiamo sempre un po' troppo stretti ecco forse abbiamo paura di darci delle un ambito e vogliamo sentirci sempre estremamente liberi ma non è proprio non è proprio la realtà questa bene ho fatto una grande introduzione soprattutto perché Hare Krishna Salvatore Alice Alice Hare Krishna Pietro Monica Marivolo e ho fatto una grande introduzione soprattutto perché appunto abbiamo comunque due capitoli davanti e quindi insomma cerchiamo di avremo un sacco tantissimi spunti su di noi su su di noi e anche un po' come leggere un po' anche cogliamo anche come dire la distanza della nostra società perché la nostra società ci come dire ci porta dei valori ci cerca di trasmetterci dei valori attraverso la narrazione che noi sentiamo le storie che noi sentiamo le storie che ci fanno ascoltare le cose che noi vediamo che ci mettono davanti e allora leggiamo anche questo come dire capendo qual è la distanza che noi abbiamo da lì a qua con un senso di fiducia sulla scrittura quindi leggendola come dire come se quella fosse la naturalezza delle cose e mentre noi ovviamente tutti noi siamo un po' condizionati abbiamo soprattutto di solito abbiamo paura abbiamo paura quindi a volte quando vediamo un limite pensiamo che sia un limite per tenersi prigioniero non per proteggerci di solito lo vediamo così mentre il Varnashana proprio è sono dei degli ambiti proprio per tenersi prigionieri per tenersi prigioniero per tenersi protetti per per proteggerci e per permetterci di evolvere in un ambito come dire di usare la vita in un modo che abbia un senso che ci troviamo a 70 anni che ci giriamo indietro e diciamo mamma mia quanto tempo ho perso non so io tante volte mi guardo e dico mamma mia quanto tempo ho perso bene leggiamo allora dal verso 1 a 7 c'è Uddava che fa delle domande riguardo Varnashrama ricordiamoci quello che abbiamo letto nel capitolo precedente infatti alla fine di tutto 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 che è comunque fra 12 capitoli faremo tutta una lettura dove io sto zitto e leggo solo così rientriamo sarà bellissimo rileggere tutte le cose che abbiamo di cui abbiamo insomma tanto 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 parlato e così e riflettuto quindi Uddava parte e dice ma tu mi hai detto adesso che è la rinuncia quella è la via principe è la rinuncia a tutto mi hai parlato anche delle perfezioni mistiche mi hai detto che comunque sono una paeta di tempo ma chi non è pronto per la rinuncia cosa può fare adesso leggiamo il verso il verso 1 e 2 si parla del processo che è proprio questo il processo che deve seguire chi è più inclina al karma yoga cioè chi è più inclina all'azione tutti noi praticamente chi è più inclina all'azione cioè a fare le cose a non stare seduto a meditare cioè proprio chi è inclina a muoversi nel mondo leggiamo Shri Uddava disse mio caro signore precedentemente hai descritto i principi del servizio devozionale che devono essere praticati da coloro che seguono Varnashrama questo l'abbiamo visto nel capitolo 13 se non sbaglio e anche dalle persone ordinarie che non seguono regole precise mio caro signore dagli occhi di loto ti prego spiegami come tutti gli esseri umani possono tenere di servirti con amore mediante l'esecuzione dei loro doveri prescritti quindi vedete come posta bene ricordiamoci Uddava è colui che diceva Krishna come dire ha imparato è esperto nell'arte di fare domande ed è questa la nostra fortuna perché vedete come pone non è una domanda giusta non la prende come dire la prende larga ma va dritto al punto dice come ti prego di spiegarmi come tutti gli esseri umani sarva tutti possono ottenere di servirti con amore mediante l'esecuzione dei loro doveri prescritti e verso 3-4 c'è il timore di Uddava che dice ma se tu te ne vai i tuoi insegnamenti anche i tuoi insegnamenti saranno dimenticati leggiamo signore della possenti braccia in passato nella tua forma di Hamsa spiegaste a Brahma quei principi religiosi che sono fonte di felicità suprema per chi li pratica e cos'era quali sono i principi era connettere ogni cosa alla verità assoluta cioè era il principio proprio del discernimento connettere ogni cosa alla verità assoluta caro Madhava ora molto tempo è passato e ciò che tu avevi precedentemente insegnato presto cesserà di esistere o conquistatore del nemico ovviamente questo è un elemento che troviamo ripetuto nelle storie puraniche cioè questo ciclo anche Krishna dice questa conoscenza nella Bhagavad Gita l'ho insegnata viva Shvan ma a un certo punto è nata perduta le cose si perdono il mondo comunque tende un po' a disintegrarsi a disgregarsi è proprio per quello che Vishnu è il Satvaguna è il come dire il 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 Gunavatara del Satvaguna perché mantenere è la cosa più difficile di questo mondo perché a creare va bene si può ma dopo tutto ha un suo decadimento e cercare di come dire posticipare questo decadimento che non avvenga anzitempo è proprio l'obiettivo del Satvaguna ed è per questo che le scritture sono si pulizionano su questo una e oltre gli insegnamenti sono su questo noi abbiamo tutti abbiamo questa sensazione che le cose si dimenticano che le cose si deteriorano che se non fai una cosa va tutto proprio tutto nel mondo lo vediamo se non pulisco questa casa regolarmente sto via un anno tornerò e troverò insomma troverò che insomma tutto un altro se lo lascio per tanti anni vedrò che la natura va preso il sopravvento e magari a un certo punto dopo decenni la mia casa non c'è più la mia casa non c'è più perché è stata mangiata è stata presa dagli agenti esterni e la domanda di un'ottima domanda per noi ma è possibile la domanda di Uddava ma è possibile raggiungere la perfezione nel Kali Yuga mio caro Aciutta sulla terra e perfino nell'assemblea di Brahma dove risiedono i Veda personificati non esiste oratore creatore protettore dei supremi principi religiosi se non tua grazia così quando tu Madhusudana che sei creatore protettore e l'enunciatore della conoscenza spirituale abbandonerai questo mondo chi esporrà di nuovo questa conoscenza perduta e lui capisce che Uddava è un amico intimo di 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 Krishna ricordiamolo Krishna ha l'amato da ha mandato Uddava a Vrindavana a portare un messaggio confidenziale alle gopi e lui è rimasto lì proprio per capire questo stadio di devozione a Krishna che a lui in quel momento era sconosciuto e dopo è tornato con questo bagaglio lui è proprio un'anima estremamente unita a Krishna e lui quindi capisce ma quando ci sei tu allora va bene tutto scorre hai messo a posto tante cose ma quando te ne andrai chi è che dirà queste cose perciò mio signore tu che conosci tutti i principi religiosi descrivimi per favore gli esseri umani che possono impegnarsi nel tuo servizio d'amore e spiegami come questo servizio deve essere compiuto e adesso dal verso l'8 al 15 c'è la storia del Varnashrama è interessante Shri Shukadeva Goswami disse ritorniamo perché il Shukadeva Goswami ricordiamocelo dove lui è di fianco a Parikshit Maharaj che sta raccontando il Bhagavatam e lui ogni tanto scompare nel senso lascia scorrere la storia poi a un certo punto Vyasadeva che è il compilatore del Bhagavatam Purana invece lo ricorda quindi in questo caso è Shri Shukadeva Goswami disse Dio la persona suprema come se fosse un oratore un narratore esterno Dio la persona suprema Shri Krishna interrogato da Uddhava il migliore dei devoti fu soddisfatto e per il bene di tutte le anime condizionate enunciò quei principi religiosi che sono eterni ecco quindi in questo momento pensate parleremo di cose estremamente come dire legate alla società proprio legate a come noi relazioniamo con gli altri eppure in questo momento lui sta pensando il bene di tutte le anime e sta e adesso enuncerà dei principi religiosi che sono eterni molto bella questa viene chiamato Shemaya Martianam essendo soddisfatto Shemaya per il bene più arto Martianam di tutte le anime condizionate Martianam vuol dire tutte le anime condizionate vuol dire le anime che sono intrappolate nel corpo cioè in un corpo perituro Martian e parlerà proprio dei Dharman Haha Sanatanam dei principi religiosi che sono eterni che sono Sanatana eterni Dio la persona suprema disse mio caro Uddhava la tua domanda è fedele ai principi della religione della religione perciò conduce la più alta perfezione della vita il puro servizio devozionale Antanyami Prabhu Haribol Salvatore mi dimentico sempre la tua domanda è fedele ai principi della religione perciò conduce alla più alta perfezione della vita il puro servizio devozionale che è destinato sia alle persone ordinarie sia ai seguaci del Varnashrama cioè il servizio devozionale è destinato a tutti cioè noi siamo qui per arrivare lì questo è quello partiamo da vari punti ci muoviamo secondo traiettorie così diverse tutte un po' diverse però il nostro obiettivo è lì cioè la nostra anima lo sa che l'obiettivo è lì noi possiamo stare anche in eterno la nostra anima sa che l'obiettivo è quello noi possiamo c'era nell'Upanishad possiamo essere coloro che uccidono l'anima che non è letterale la cosa ma è come dire simbolica per dire che la sopprimono che la fanno rimanere zitta ma dentro di noi c'è questa voce che ci richiama alla nostra destinazione ultima non solo la destinazione ma al percorso perché è anche il percorso che è piacevole ora per favore ascolta da me quei principi religiosi supremi qua leggo tra le righe del commento dice il vannashrama è la presentazione più scientifica della religione su questo pianeta e coloro che si perfezionano in questo sistema cedono al piano della coscienza di Krishna e dedicano ogni cosa alla soddisfazione del Signore Supremo è la presentazione più scientifica della religione perché perché non stiamo parlando di filosofia di cose ma stiamo parlando di uomini di relazione tra gli uomini e di noi stessi di dove siamo di cosa di come dovremmo muoverci vedremo che sono cose che ci richiamano un po' qualcosa di reale concreto mentre non so quando parliamo delle perfezioni mistiche sì come dire devo semplicemente crederci non faccio fatica a verificarle ma invece sul Varnashrama è una cosa subito verificabile cioè almeno dei principi subito possiamo metterli in modo scientifico proprio sul piatto della sperimentazione e capire ma questo porta a una società più giusta o meno giusta porta a una società dove c'è più amore o meno amore dove c'è più rispetto o meno rispetto dove c'è più spazio spazio per gli altri o meno spazio per gli altri perché noi pensiamo di avere di essere in una società dove c'è tanto spazio tutti ci sentiamo liberi di fare quello che vogliamo ma tante volte semplicemente barcogliamo se non è un reale movimento non è un reale movimento tante tante in tante situazioni non è un reale movimento abbiamo l'idea in nostra mente che siamo ma alla fine poi la società di adesso è veramente ha dei ha dei gap sociali mai avvenuti nella storia proprio tra i più ricchi e i più poveri mai avvenuti cioè ma non secondo così me ma proprio secondo gli studiosi gli economisti i sociologi mai avuto quindi come dire cresciamo in una società che noi pensiamo libera dove è ma alla fine è veramente tanto immaginativa la cosa all'inizio del Satya Yuga verso 10-11 Krishna spiega del Varnashrama nel Satya Yuga all'inizio del Satya Yuga esiste soltanto una classe sociale chiamata Hamsa a cui tutti gli esseri umani appartengono in quest'era tutti sono puri devoti del Signore fin dalla nascita perciò saggi e deruditi la definiscono Krita Yuga cioè l'era in cui tutti i doveri religiosi sono perfettamente compiuti Krita vuol dire proprio la perfezione cioè la perfezione dell'azione quindi nel Satya Yuga c'è sempre in tutte le tradizioni c'è un'epoca d'oro dove come dire tutto era perfetto e nella tradizione vedica è così nel senso nei cicli temporali c'è il Satya Yuga all'inizio il Satya Yuga è proprio la prima manifestazione della creazione cioè è il il periodo quello più puro quello più vicino alla fonte e quindi lui dice proprio tutti erano tutti nascevano tutti sono puri devoti del Signore fin dalla nascita cioè proprio prendono il mondo come così esperienza non come fuga ma come esperienza cioè vanno e tornano arrivano passano e poi tornano non stanno là milioni di vite a fare giri ma vanno e tornano perché sono sanno dove sono vedono percepiscono la realtà così com'è e e la percepiscono completamente integrata a loro stessi cioè la realtà non è noi abbiamo questa idea qua che il mondo sia qualcosa di oggettivo fuori di noi sul quale noi dobbiamo farci un'opinione quindi su tutte le cose che noi vediamo come dire esterne a noi noi le consideriamo realmente esterne a noi e quindi su quella cosa dobbiamo sempre farci un'opinione e la nostra vita è un po' gran parte del suo tempo è farci un'opinione sulle cose invece che vedere le cose e quindi anche come dire capirne il funzionamento capirne le leggi che lo governano invece che stupirci insomma e uniformarci a queste leggi questo è anche che fare proprio con il Varnashrama non è una legge così come la forza di gravità ecco però è un ambito dove nel quale le cose avvengono in un certo modo avvengono in un modo migliore che esserne fuori qua dicono qua leggo qualche passo perché insomma ovviamente stiamo trattando di temi che sono molto attuali anche dice non è l'attuale la gente chiede a gran voce l'uguaglianza sociale ma se tutti gli esseri umani non sono situati nella virtù che è la posizione di purezza di devozione incondizionata l'uguaglianza sociale non è possibile perché in effetti queste categorie sono basate proprio sui guna e sul karma sulle azioni cioè noi come dire siamo uguali in potenza noi siamo esseri tutti esseri umani apparteniamo a questa specie dentro ancora di più noi dentro siamo uguali siamo la nostra natura eterna ma fuori la realtà dice che non è così non è così cioè non è proprio così non è così la realtà dice che non lo è perché il comportamento di uno porta delle conseguenze agli altri se stesso agli altri è diverso dal comportamento di un altro e l'energia all'interno del quale lui si muove se cambia quell'energia cambia anche la persona cioè fino a quando noi siamo condizionati da questo corpo è un po' un'utopia dirci che siamo tutti uguali questo non vuol dire che dire che non siamo uguali vuol dire che qualcuno deve subire oppure non avrà rispetto di tutti oppure non sarà come dire non non si farà di tutto per rendere la vita di ognuno dignitosa e come dire e che abbia senso viverla ecco questo è il Varnashrama che accetta delle diversità in base a il percorso che uno sta facendo da milioni di vite tra l'altro perché non è così una fotografia è chiusa là noi veniamo da chissà quante volte siamo stati questo questo o quell'altro quindi vediamola anche da un punto di vista un po' allargando un po' lo spazio temporale delle nostre esperienze perché se no ci sentiamo un po' in effetti ci sentiamo un po' intrappolati ma come ma com'è che io questa vita devo fare questo devo spaccarmi la schiena quando l'altro invece non fa niente è già nato in una famiglia non lo so magari sta anche bene magari sta anche in salute e magari è anche intelligente ma com'è sta storia non è perché lui è meglio così però ognuno ha la sua esperienza ognuno ha le sue cose bisogna vedere dopo sé non che immagino che non sia felice ma ognuno ha a che fare con i suoi modellini i suoi pezzi di Lego e si costruisce la sua vita nel Satya Yuga non esistono esseri umani inferiori perciò non vi è alcun bisogno di principi religiosi secondari tutti si impegnano direttamente nel servizio devozionale a Dio adempiendo perfettamente tutti i doveri religiosi il metodo del Varnashama non è un'invenzione recente finisco il commento ma appare naturalmente al tempo della creazione dovrebbe quindi essere accettato da tutti gli esseri umani dotati di intelligenza nel senso di ragionevolezza ecco non di intelligenza ma di ragionevolezza di ragione cioè Krishna la prima cosa che ci dice e questo è importante non è il Varnashama non è c'era una è vero che c'era un'unica classe ma perché c'era un unico tipo di esseri che erano molto diversi tra di loro però per natura anche quello non è una questione così come dire di come è fatto il tuo corpo ma è proprio una questione di natura quindi erano molto diversi perché se leggiamo chi c'era nel Satya Yuga insomma erano molto diversi tra di loro però nella natura avevano erano simili nella natura e quindi già questo capiamo che comunque Krishna sta attento a questa cosa qua cioè la creazione sta attenta a questo cioè non è che così ah per caso ci siamo tutti trovati uguali e quindi dopo è proprio è nata così nel Satya Yuga l'unico Veda è espresso con la sillaba OM e io sono l'unico oggetto dell'attività mentali pensate Satya Yuga quanto era focalizzato cioè tutta la conoscenza era era in un OM che vuol dire che quell'OM diceva tutto realmente cioè portava tutto non era così un loro avevano l'OM non era una cosa esteriore vuol dire che che dentro a quel suono c'era realmente tutta la conoscenza che invece adesso noi abbiamo in migliaia e migliaia e migliaia diversi e io l'unico oggetto dell'attività mentali cioè tutti pensavano solo al Signore vuol dire che non facevano cose no perché nel Satya Yuga se si leggono le storie i racconti era un'attività cioè erano come dire era un momento di grande fermento era un momento in cui Shvaya Muvamanu stava generando tutte le creature dove ci sono anche lotte planetarie dove insomma avvengono tante cose nel Satya Yuga quindi non erano inattivi inattivi magari i Kumara vi ricordate i Kumara dicevano no io voglio solo meditare sul Signore chiuso proprio ma allora quella era come dire un'attività della meditazione ma tutti avevano in mente perché avevano in mente perché qualcuno gliel'aveva erano stati obbligati a farlo ma perché era naturale la mente va dove quello che vede quello che riesce a percepire è quello che dove mette più valore man mano noi adesso non siamo sicuri di dove abbiamo il valore quindi ogni tanto è questo ogni tanto è un libro ogni tanto è un'altra cosa ogni tanto è un oggetto ogni tanto è una realizzazione sociale allora là io penso invece lì erano estremamente focalizzati come diceva la regina Cunti diceva come un fiume che scorre naturalmente verso il mare non è che il fiume deve sforzarsi per arrivare al mare il fiume naturalmente scorre verso il mare se ci sono degli ostacoli ma lui comunque va cioè devi proprio costruire una diga per interrompere il suo flusso ma anche se si trova ostacoli lui comunque va naturalmente scende naturalmente verso il mare ed era questo l'oggetto di meditazione di Nesatya Yuga andava naturalmente verso il Signore mi manifesto nella forma del bue della religione con le sue quattro zampe il bue della religione lo troviamo nel primo canto del Bhagavatam quando Parikshit Maraj incontra vede la personificazione del Kali Yuga che sta massacrando il bue della religione e gli abitanti Nesatya Yuga fissi nella pratica dell'austerità e liberi dal peccato mi adorano come Shri Hamsa noi abbiamo già visto Hamsa l'Hamsa Avatara vi ricordate abbiamo già visto il cigno quello pensate quanto appunto anche liberale è Krishna qua leggo leggo appunto nel primo canto nel 17esimo capitolo 24esimo verso che è nel commento nell'era di Satya la veridicità le tue quattro zampe e questo è sta parlando al bue della religione le tue quattro zampe erano stabilite dai quattro principi dell'austerità della pulizia della misericordia e della veridicità per caso vi ricordate qual è l'ultima zampa del Kali Yuga cioè l'unica zampa su cui si sostiene tutto vi ricordate avete memoria di questo sto zitto ah no va bene sto zitto solo per darvi il tempo perché la veridicità l'ultima zampa è la veridicità truthfulness proprio c'è un bel libro di Sasvarupa Daskoswami che si chiama si intitola truthfulness the last leg of religion molto bello immaginate il livello di Kali Yuga in cui non è che abbiamo proprio in testa che ci muoviamo in una società dove è indirizzata dalla veridicità perché è proprio insomma è palese come veniamo manipolati attraverso la comunicazione come ci viene detto certe cose non altre insomma è palese e dove anche la menzogna insomma sia abbastanza non solo cioè abbastanza anche accettata in certi ambiti insomma si sa che per fare per dire devi comunque insomma boh non so quindi insomma immaginate insomma un po' a che punto siamo siamo in un punto abbastanza difficile ecco ma gli altri li abbiamo persi cioè l'austerità la pulizia la misericordia li abbiamo persi cosa vuol dire che sono persi ovunque che non possiamo più avere no non è così ci sono ancora dei luoghi dove ci sono austerità pulizia misericordia e veridicità però sono pochi diciamo che la grande energia del Kali Yuga è proprio quello di aver spazzato via le altre tre cioè completamente quindi ecco non meravigliamoci quando non le troviamo ecco forse quello ci può essere utile quando non le troviamo non meravigliamoci siamo siamo qui e come dire noi siamo qui non a caso siamo nei Kali Yuga non è solo una colpa abbiamo magari abbiamo scelto di essere qua in questo momento in questo preciso cioè non è a caso che siamo qui non è per sfortuna che noi siamo qui è per una una scelta insomma cioè la nostra anima sa insomma dove dove noi possiamo evolverci bruciare il giusto karma quello che c'è insomma sa perfettamente la nostra dove noi dobbiamo andare noi ce lo siamo dimenticati quindi ecco non stupiamoci quando non c'è ma soprattutto cerchiamo di impegnarci a stabilirli perché perché è uno perché è uno sforzo non ci viene naturale essere austeri o essere misericordiosi essere puliti nel senso sia fuori ma dentro soprattutto ed essere veritieri non è una non ci viene così naturale perché la tendenza è un'altra quindi vuol dire che se noi vogliamo aderire a questi principi perché li riteniamo validi dobbiamo sforzarci per farlo e capire che la tendenza invece è un'altra se ci lasciamo andare anche noi andremo in quella parte non siamo non siamo avulsi dall'energia del Kali Yuga possiamo crearci appunto come si diceva un ambito dove di protezione ma non una campana completamente insomma cioè comunque permiano delle cose anche perché dentro questa campana ci siamo noi e noi il nostro cuore abbiamo queste tendenze non sono solo cose esterne dove io devo star lontano dagli altri perché se no mi condizionano soprattutto sono io quello che deve che deve cambiare non è per giudicare gli altri è proprio per avere un metro in più per capire me stesso e capire dove sono le mie tendenze e quando cado da quella parte lì capisco sono caduto da questa parte qui non per giustificarmi ma ma neanche per affossarmi per ma è per dire ok adesso mi rialzo e ci riprovo ancora perché tutte cioè è come se fosse un'attività agonistica questa tra l'altro i principi quelli che vengono definiti i principi regolatori nel movimento riscono proprio servono ognuno di loro serve a rispondere a ricreare dentro di noi questi principi del dharma questi principi della giustizia della verità cioè della verità nel senso di come stanno le cose perché non sono delle cose così messe a caso cioè che vuol dire che è la vita che si muove nella veridicità nella misericordia appunto nella comunione nella misericordia nella pulizia nel senso di avere dei pensieri puri verso se stessi e verso gli altri e nell'austerità nel senso anche di sacrificarsi per gli altri sacrificarsi per un bene maggiore oppure anche rendere sacro ogni nostro agire bene io a dire la verità sono 56 se ci sono domande perché se no gli altri mi stanno dicendo cioè ci dirà nel tetra yuga nei prossimi tre versi nel tetra yuga che la seconda era l'era dopo satya yuga come era invece come era il varnashrama insomma come era suddiviso il varnashrama quindi siccome sono tre li prendiamo la prossima volta direi e dopo non dico niente se ci sono domande commenti se vi interessa l'argomento questo è come dire abbiamo bene Monica sono contento che ti abbiamo così questi due capitoli sono una bella un bel approfondimento su questo argomento sono proprio contento in effetti è veramente tanto interessante la generosità pensate una volta e mezza la Bhagavad Gita una volta e mezza la Bhagavad Gita però sembra tanto più lunga sembra tanto più ricca adesso non ma poi gli argomenti nel senso che va proprio pensate quanti capitoli quanti versi erano solo sui solo sui 24 maestri del Brahmana Vaduta sembra veramente un po' che si stia espandendo davanti ai nostri occhi almeno questa è la mia sensazione bene quindi la prossima volta faremo la seconda parte di questo capitolo penso che ci metteremo altri due incontri insomma per chiudere questo capitolo questo delle quattro zampe del due della religione è molto interessante ma sì in effetti lo è in effetti lo è e il Varnashrama ovviamente se tutte le cose di cui parla Krishna non sono messe così a caso il Varnashrama proprio serve per cercare di ristabilire di riportare ordine dare un posto un po' a tutti questo è un po' anche il senso dare un posto a tutti in questo mondo perché in effetti adesso noi stiamo studiando un sistema di suddivisione che è però incentrato sulla realizzazione spirituale e sul portare come dire bene agli altri non è incentrato sul liberismo che è incentrato sulla come dire produzione di profitto sul capitalismo oppure sulla apertura su come dire la disintegrazione delle barriere tra l'uno e l'altro e quindi la diversità che è veramente molto strano oppure sul capitalismo oppure anche solo sul comunismo proprio questo invece è un'altra divisione quindi è buono studiarla è buono capire che cosa aveva in testa Krishna quando ha creato la creazione come lui si immaginava che le persone stessero insieme tra di loro cioè a livello proprio pratico non solo abbracci preghiere ma proprio a livello pratico come lui si immaginava che noi stessimo insieme per come dire per svolgere la nostra natura per fare proprio quello per cui noi siamo stati creati questo però servono anche però servono anche però per la vita reale materiale esatto e proprio è perché teniamo conto che quando si alza il livello di visione non c'è più materiale spirituale serve a noi per indicarci siamo c'è la materia c'è lo spirito ma dal punto di vista assoluto non c'è materiale spirituale non c'è quindi questo è materiale lui vive è la creazione quindi come dire quando lui ci vede ci vede anime che stanno usando un corpo che stanno usando un corpo allora semplicemente ce lo ricorda guarda che sei un'anima che sta usando un corpo non sei un corpo buttato là a caso oppure un corpo che ha anche qualcosa di spirituale cioè tu sei spirito che stai usando un corpo quindi ricordatelo e agisci di conseguenza non è semplicemente abbandona il corpo perché se no come dire l'insegnamento è appena nato abbandona il corpo e basta invece come dici tu Monica grazie mille è un'educazione è un metodo è un processo è proprio un processo è proprio un processo molto graduale dove tutti noi abbiamo spazio tutti noi anche cioè senza far finta di essere qualcos'altro senza dover far finta di essere particolarmente oppure più avanzati di quello che siamo leggetemi bene questo insomma ma diversi da quello che siamo cioè senza come dire guardare bene in faccia i nostri desideri i nostri desideri perché comunque possono essere incanalati nel modo giusto in questo modo ci sono i modi per incanalare per purificarli per incanalare ma non per sopprimere Krishna dice quando le cose vengono soppressi si crea solo danno devono essere trascesi devono essere trascesi nel senso visti e indirizzati va bene adesso stavo aprendo un'altra parentesi bene bene sono contento che vi molto da imparare capire grazie a te bene allora ci vediamo invece la prossima settimana ritorniamo al martedì però lo guardo sempre perché la prossima la prossima settimana torniamo proprio di martedì quindi ci vediamo settimana prossima martedì 22 va bene e il mercoledì riprenderà lo spazio che mi ha gentilmente mi ha gentilmente dato lo scambio proprio perché io avevo un impegno ieri e allora è stato gentile insomma a fare questo scambio qua grazie mille e vi auguro una settimana splendida e ci vediamo presto Ari Ari Aribol Ari